Good morning guys! Un altro anno è passato e nuovi modelli Harley Davidson sono stati presentati anche se sinceramente non è stato presentato ciò che io mi aspettavo La presentazione di Harley Davidson è avvenuta il 26 gennaio come ben sapete e come ben sapete nel 57 il 27 gennaio è stata presentata una Sportster e sinceramente data la data e data la richiesta del mercato mi aspettavo venisse presentata una Sportster ma così non è stato ma un bel mezzo è arrivato nelle concessionarie o sta per arrivare nelle concessionarie Harley Davidson la Lowrider ST che secondo me è la novità più bella di questa presentazione Da quale buon youtuber sono questo video lo faccio uscire a una settimana di distanza dalla presentazione di Harley Davidson quasi una settimana in teoria avrei dovuto farlo uscire praticamente il giorno stesso o al massimo il giorno dopo la presentazione ma ho preferito aspettare un secondino leggere i vostri commenti durante la diretta live che abbiamo fatto pochi minuti fa e leggere in giro per i social che cosa la gente che cosa voi motocicletti state pensando di questi nuovi modelli perché volevo un pochino farmi un'idea completa prima di parlarne e quindi eccomi qua ora vi dico quello che è il mio modesto pensiero da questa presentazione che poi in realtà è un agglomerato di spot pubblicitari in un certo senso è venuto fuori che Harley Davidson sta sempre più puntando verso le performance abbiamo tutta la categoria si vuoi a parte le colorazioni aggiornate ma anche con migliorie a livello di potenze e quindi stanno cercando di puntare molto su quell'aspetto ma soprattutto come vi ho detto prima della sigla c'è un mezzo che mi attira veramente molto e mi piace anche tanto così sulla carta sapete bene di cosa sto parlando sto parlando della low rider st una moto nettamente e precisamente orientata al club style che non mi ha mai convinto del tutto però su questo mezzo non mi dispiace anche perché questo cupolino non è esageratamente grande ora c'è una questione che viene fuori ed è emersa sempre durante la live molti di voi conoscono teste di moto e se non lo conoscete cercatelo su youtube perché un bel canale youtube con la sua low rider s s fatta club style è una bellissima pagina instagram sempre a nome teste di moto e lui ha sollevato una questione molto interessante secondo me io possessore di una low rider s per trasformare il mio mezzo in una ipotetica st con gli accessori devo spendere indicativamente 6.000 euro 6.000 euro ragazzi mentre oggi la st in confronto alla modello s costa solo 2.000 euro in più che poi tra l'altro hanno fatto un'altra modifica che proprio non riesco a digerire in nessun modo avete presente la dash cover sul serbatoio con i due strumenti analogici? avete presente quanto è bella? non c'è più e hanno messo sopra i riser come lo street bob il riquadro digitale con tutti quanti i dati interessanti ma no non ci sta ci stanno bene quelli analogici perché questa modifica? perché? no! io rivoglio quelli e sicuramente si possono mettere come accessori e costeranno un fottio ma perché? porca miseria però questa st costa 22.000 euro euro più euro meno e secondo me nel panorama Harley Davidson è un prezzo abbastanza adeguato per la moto per quello che offre anche se comunque per la componentistica lo reputo un prezzo un pochino elevato secondo me potrebbero costare un pochino meno ci sono altre due questioni importanti secondo me di cui parlare il prezzo di questi mezzi e l'assenza di una sportster partiamo dal prezzo anche se poi l'assenza della sportster e il questione prezzo un pochino vanno di pari passo Harley Davidson sta dimostrando di puntare tutta la sua energia la sua strategia sulla vendita dei modelli premium quindi quelli più costosi non tutti possono permettersi di comprare un cvo che costa indicativamente 43.000 euro ragazzi poi metti qualche accessorino qualche cosina e ci metti un secondo arrivare a quasi 50.000 e sono prezzi ragazzi importanti molto importanti ok e secondo me questa strategia di puntare su questi mezzi può avere successo ma nel breve termine perché nel breve termine ti permette di fare magari qualche vendita che ti permette di fare cassa ma nella strategia a lungo termine ti danneggia perché sono poche le moto che tu venderai non saranno tante saranno poche non ti porteranno clientela nuova perché ripeto sono in pochi quelle che possono permettersela e quindi secondo me Harley Davidson in questo caso con questa scelta che per certi versi è una scelta coraggiosa una scelta importante e sto parlando di modelli premium ha deciso di dimenticarsi un pochino della clientela quella più vasta come portafoglio e ricordiamo che il modello st comunque con i suoi 22.000 euro è abbastanza abbordabile ci possiamo arrivare sudando un po' ma ci possiamo arrivare però ad oggi manca modello entry level e qui entra in gioco la sportster entra in gioco sia come appassionato e amante delle sporti ma anche soprattutto come affezionato al mondo Harley Davidson e affezionato speranzoso che Harley Davidson non va da gambe all'aria gambe all'aria Riccardo sei po troppo forte vuoi usare termini esagerati no perché secondo me un modello entry level quale potrebbe essere una sportster non una sportress ovviamente ma una sport più tradizionale come estetica con un prezzo un pochino più abbordabile come era magari una iron 1200 e una iron 883 quindi si attestavano sulle 10 e mezzo 11.000 euro indicativamente potrebbero portare tanta clientela nuova ora spero che Harley Davidson nel corso di quest'anno e magari nell'inizio della seconda metà dell'anno quindi verso giugno possa magari presentare una sportster come quella che avevamo visto in qualche video fa quindi con le sospensioni a vista molto più simile a una classica sposter rispetto a una nuova sposter S stiamo aspettando un ritorno di fiamma in casa Harley Davidson perché ce n'è veramente bisogno e se pensiamo che oggi per poter entrare il prezzo minimo si aggira a 16.000 euro beh insomma ci penso 2 3 4 5 6 magari anche 10 volte prima di comprare un mezzo e probabilmente 8 persone su 10 vanno a comprare tutt'altra moto perché se pensiamo che in Harley Davidson con 16.000 euro potrei comprare o una sposter S o una panamerica insomma abbiamo due moto abbastanza diverse un altro pensiero che vi vorrei tirar fuori è questo provate a pensare alla street glide special perché in Italia c'è solo il modello special la street glide classica non è più ordinabile è rimasta la special un mezzo a partire da 30.000 euro 39 quindi 31.000 euro e con 30.000 euro circa ci compriamo una Goldwing non mi fa particolarmente impazzire ma ci compriamo una Goldwing perché faccio questo paragone? perché con una Goldwing a 30.000 euro circa abbiamo tanta tecnologia una moto che è performante comoda a cui una volta comprata non dobbiamo far nessuna modifica la street glide una moto da 30.000 euro 31.000 euro nuova che una volta presa uscita dalla concessionaria ci rendiamo subito conto che le sospensioni posteriori sono da cambiare perché non sono di qualità questo è un esempio è una moto nuda e cruda è vero che Harry Davidson vive sulla fama vive su quello che è il sogno americano ma a un certo punto se il mercato intorno a te ti propone allo stesso prezzo una moto un pochino diversa come la Goldwing però il segmento bene o male è quello però ti offre tanto contenuto in più perché non ti adegui? mantenendo quella che è l'estetica della street glide non bisogna per forza snaturare ma perché sopravvivere a questo mondo dove tutti quanti stanno andando avanti necessariamente un passetto alla volta magari non tutto subito ma necessariamente bisogna andare avanti bisogna farlo non si può pretendere di vendere moto care con poco contenuto rispetto a quello che fanno gli altri è vero che bisogna guardare il proprio orticello ma quando si parla di vendite necessariamente bisogna guardare a chi c'è intorno a cosa propone e non per forza fare la stessa cosa assolutissimamente bisogna essere fedeli a se stessi ma bisogna cercare di essere simili di proporre qualcosa di abbastanza allineato in modo tale da poter concorrere alla vendita ora però una domanda me la faccio una street glide viene venduta a 31.000 euro con contenuti abbastanza scarsi ma sempre in casa Harley Davidson a 16.000 euro viene venduta una Panamerica stracolma di contenuti tecnologici stracolma ma perché Harley Davidson se fa una cosa del genere con un mezzo in casa sua non lo fa anche con gli altri perché o adegua il prezzo o migliora il contenuto allo stesso prezzo perché non lo fa perché Harley Davidson non porti finalmente questo modello sportster che tutti ti stanno chiedendo a gran voce perché non lo fai perché però la st è un mezzo veramente interessante e sarei curioso di provarlo il prima possibile ora ragazzi è il vostro turno se avete voglia fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate di questa premiere del 26 gennaio su tutto quello che porta con sé e sono molto curioso di sapere cosa pensate di questa Lowride ST e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi ciao